Sentite che baccano, chissà cosa avranno da dirsi, sono partiti anche i ritardatari tra gli uccelli, gli ultimi esseri capaci di assecondare l'istinto di migrazione, bussola a sud e pochi pensieri. Noi, noi si rimane qui mentre le navi salvano dei porti, solcando il mare e la sua immobile sfuggevolezza. I marinai sono uccelli, traggono dalla vaghezza l'attendibilità della loro rotta. Noi attendiamo i semafori e baghiamo i caselli, seguendo strade che ci limitano, ci ingannano. Eppure si palesa, anche solo in un giro in bici, l'ansia di spostarsi, di irrepetezza, la sensazione che si possa vivere soltanto di passaggio. Mi capirete voi altri che vi ricercate nei viaggi fisici e psichici riuscendo a comprendere soltanto che non sarete mai al vostro posto. Voi, che contemplate il volo degli uccelli, ipotizzando che la felicità sia la somma dei punti che la loro traiettoria tocca, loro sì, sono sempre al posto giusto.